Buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vedremo cosa fare quando accendiamo il computer, le ventole girano, quindi ci sembra che il computer funzioni, ma lo schermo rimane nero. Come ho detto l'altra volta, questo sarà il secondo video di questa sorta di miniserie che ho deciso da fare, composto da tre video. L'ho spiegato la volta scorsa i video dei quali sarà composta questa miniserie. Allora, innanzitutto c'è da dire che le cause possono essere diverse. Però procediamo anche in base ad un ordine mio che ho deciso di fare e di consigliarvi. Allora, la prima cosa che vi consiglio di fare è di verificare esteriormente, quindi in un certo modo, che il cavo VGA della vostra scheda sul quale è collegato il cavo alla vostra scheda video, che sia quindi VGA, HDMI, DV, non c'entra. Verificate comunque che il cavo che porta l'immagine della scheda video al monitor funzioni, sia funzionante. Per farlo, semplicemente, potete provare se ne avete la possibilità di cambiare il cavo, quindi di provare un cavo che è funzionante. Il secondo consiglio che vi posso dare riguarda invece il monitor, quindi lo schermo. Proviamo se abbiamo la possibilità proprio a cambiare lo schermo. Va benissimo anche un televisore. Proviamo a collegare il nostro computer comunque ad un altro schermo. E riguardante lo schermo, a proposito dello schermo, vi posso dire questo. Verificate che, come dire, mi sfugge adesso il termine, la sorgente con la quale viene, diciamo, la modalità con la quale viene impostato lo schermo sia quella corretta. Quindi, se voi avete segnale analogico, che lo schermo sia impostato per segnale analogico. Se è digitale, digitale. Quindi verifichiamo bene anche questo, quindi anche le impostazioni, il settaggio dello schermo. Un'altra cosa che vi posso dire adesso è la scheda video. Quindi entriamo, come dire, nell'hardware. Allora, prima modalità di soluzione, primo consiglio che vi posso dare. Utilizzare la scheda video integrata, se ovviamente voi avete attualmente collegato il cavo alla scheda video pc, quindi alla scheda video interna. Se avete così, allora potete provare a far funzionare la scheda video integrata, se ne avete la possibilità. Quindi se il vostro computer è predisposto per questo uso. In questo caso vi posso dire questo. Allora, per far funzionare la scheda video integrata, sinceramente non so, non so benissimo come fare, ma adesso vi spiego bene. Allora, non ricordo se è sufficiente che voi scolleghiate il cavo dalla scheda video pc e lo collegate per, appunto, avviare la scheda video integrata, o seppure dovete proprio togliere la scheda video pc e poi attaccare il cavo successivamente alla scheda video integrata. O se ancora, magari qualche scheda madre, mette a disposizione nel BIOS un settaggio per attivare o disattivare la scheda video integrata. Quindi verificate questi settaggi e regolatevi di seguito. Se no, la cosa più semplice è quella proprio di cambiare la scheda video, quindi di provare un'altra che sapete che è funzionante e compatibile. Un'altra cosa, ecco, riguarda invece questa volta le schede video che hanno, che necessitano di alimentazione. Perché ci sono delle schede video, non questa qua per esempio, questa no, ma ci sono delle schede video che hanno bisogno di essere alimentate con un cavo, diciamo, vediamo se ce l'ho, no qua non ce l'ho, però diciamo simile a questo però nero. Quindi, ma può essere anche bianco, insomma, diciamo che alcune schede video necessitano di essere alimentate. Verifichiamo che il cavo sia collegato o che i cavi siano collegati, a volte servono anche due cavi. Verifichiamo e inoltre anche proviamo se abbiamo la possibilità un altro cavo. Colleghiamo quindi un altro cavo dell'alimentatore. Un'altra cosa che vi posso dire è quella che quando togliete la scheda video proviate a pulire lo slot nella quale è alloggiata la scheda video, quindi quest'ultima. Provate a pulirlo, provate a pulire anche comunque la dentatura dorata della scheda video e provate a vedere se così magari ritorna a funzionare. Adesso vediamo che altri consigli posso dare. sicuramente anche adesso può entrare in gioco forse in alcuni casi anche il reset del BIOS. Magari semplicemente togliendo la batteria tampone per 20 minuti mettendola da parte e poi reinserendola magari il computer ritorna a funzionare. Non si sa mai. Sicuramente è una prova che comunque io personalmente farei. Successivamente vi posso dire anche che ora diciamo ci possono essere anche altri componenti che chiaramente non permettono al computer di visualizzare niente lo schermo. Quindi può esserci un problema diverso dalla scheda video. A me molte volte mi è successo. Velocemente allora diciamo un problema comune che può succedere è che qualche componente abbia smesso di funzionare. Quindi la scheda madre non può avviarsi e quindi lo schermo rimarrà nero. Uno dei componenti che può avere problemi e che può dare problemi in questo senso sono le RAM. Appunto queste due. Alcuni computer ce ne hanno una, due, tre, quattro. Quindi in questi casi io vi consiglio se ne avete più di una di togliere le tutte e di lasciare solo una. se così neanche non va provate con la RAM che avete messo da parte togliendo quella che invece è. Insomma utilizzate sempre il computer con un'unica RAM e sempre una diversa. Vedete che magari qualche RAM non abbia qualche problema. O provate direttamente con RAM nuove. Diciamo che se le RAM hanno problemi può succedere che il computer non parta nemmeno. Un altro, poi inoltre pulite anche gli slot delle RAM che può essere molto utile anche la relativa doratura della dentatura delle RAM. Un altro componente, sinceramente questo non lo so, però potrebbe essere, diciamo io proverei anche questo come diciamo, come prova ecco diciamo. Allora è l'alimentatore. Quindi io proverei a verificare innanzitutto che i cavi siano ben collegati. Quindi che non ci siano cavi magari che sono solo mezzo collegati che magari danno problemi. Quindi proviamo a vedere che i cavi siano ben collegati. Se no vi dico io procederei anche proprio a provare a sostituire l'alimentatore se ne uno da parte. Proverei con un nuovo alimentatore. Un altro componente e ora entriamo negli ultimi due componenti che possono diciamo essere colpevoli da questo punto di vista sono la CPU e la scheda madre. In questi due casi potrebbe essere in particolare per la CPU ma in realtà questo può succedere anche per altri componenti però diciamo a me è successo per la CPU. Può essere che le ventole non solo diciamo quando voi accendete il computer si accendono normalmente no? Ma può essere che girino oltre il limite quindi che girino fortissimo. Allora la CPU chiaramente se il problema sta nella CPU voi dovete procedere con la sostituzione della CPU. Però prima c'è anche un'altra possibilità. Può essere semplicemente che il cavo che appunto va ad alimentare la CPU non vorrei dire scemenza non mi sembra che questo cavo è proprio alimentare la CPU. Quindi se magari questo cavo ha qualche problemi o ha smesso di funzionare potete provarne un altro se ne avete e verificare così. Se invece è la CPU quindi il processore in questo caso vi consiglio di sostituire il processore non c'è altro modo che io sappia. E poi la scheda madre. Se la scheda madre chiaramente dovete verificare un po' quale possa essere il problema. Verificate che non ci siano condensatori bruciati verificate appunto che sia tutto integro però chiaramente se il problema sta nella scheda madre chiaramente la soluzione più veloce è quella di procedere con la sostituzione di quest'ultima. non penso io. Diciamo questi sono i principali i principali componenti che io otterrei sotto occhio poi magari ce ne sono altri però questi sono secondo me i principali quindi cavi esterni quindi del monitor monitor in quanto tale impostazioni del monitor scheda video e vi ho detto poi cosa fare alimentatore ram a me è successo diverse volte con ram non funzionanti scheda madre e processore. Io spero che questo video e cavi in generale verificate anche che i cavi siano ben collegati appunto anche anche i cavi che non c'entrano in realtà con con l'alimentatore la scheda video per esempio cavi SATA verificate per sicurezza che siano tutti ben collegati. Inoltre vi dico anche questo provate a togliere anche le schede diciamo pc esterne quindi quelle che non hanno a che vedere con la scheda video provate a togliere lasciare solo la scheda video e i componenti principali e vedete se così parte. Io spero di essere stato utile quindi lasciate solo la scheda video e diciamo i componenti principali e i cavi principali spero di essere stato utile se qualcosa non vi è chiaro lasciate la vostra domanda nei commenti un saluto a tutti grazie per aver guardato questo video visto che siamo venerdì vi auguro una buona domenica del signore